Come si torna in campionato? Per il campionato ma anche per l'Eurolega perché vogliamo continuare a dare il massimo ma con più convinzione. Senti, si torna subito a giocare, questo si è spesso detto che è un bene, anche in queste circostanze secondo te? Soprattutto in questa circostanza, altre volte magari ti serverebbe una settimana per preparare meglio le cose, ma in questa circostanza sicuramente va bene così, penso che le ragazze siano motivate per migliorarsi. Si va ad Alcamo, tra l'altro c'è sempre questa strana coincidenza che dopo trasferte di Eurolega c'è subito un viaggio in aereo, se no c'è stato anche sul discorso Saramanca-Cagliari, adesso c'è stata doppietta Polonia-Sicilia. Vabbè, Alcamo comunque è l'altra neopromossa che chiaramente metterà tutto l'entusiasmo e poi anche la verve, diciamo, plus di giocare contro le campionesse d'Italia. E' detto bene, contro di noi tutte le squadre giocheranno al massimo, avranno meno da perdere rispetto che in altre partite perché giocano contro le campionesse, ma sicuramente daranno sempre qualcosa di più, quindi noi dobbiamo essere sempre più pronti ad affrontare ogni partita nella maniera giusta. Grazie.